E vai, e vai, sì, siamo secondi, siamo secondi, beh in attesa della partita della Juventus è le ore 18. Amici e amiche, buona domenica e buon inizio settimana, buon lunedì se mi vede lunedì, sono le ore 17, 12, 5, 12 del pomeriggio di questa domenica 10 marzo 2024, un abbraccio a tutti voi, forza mira sempre e comunque ovunque, allora siamo secondi 59 punti con la Juventus a 57, la Juventus deve ancora giocare, quando vedrete questo video molto probabilmente la Juventus avrà giocato, adesso non posso prevedere il futuro ma comunque siamo avanti per il momento di due punti secondi in classifica di Serie A, come avevo detto avevamo la possibilità di arrivare secondi, perché il Milan ha tutte le caratteristiche secondo me anche una rosa leggermente superiore a quella della Juventus per arrivare secondo, senza neanche fare troppa fatica, Pioli e staff permettendo. Allora ragazzi c'è da parlare di fare un breve ragionamento importante sulle parole di Scaroni in diretta da San Sino ai microfono di Dazon prima della partita, perché dopo Ibrahimovic anche lui mi ha scandalizzato e lo dico sinceramente non perché io qui in questo canale sia un despota, un autoritario del mio canale, un dittatore, non me ne frega nulla di queste valutazioni, tutte queste valutazioni che si sentono anche oggi parlare di despotismo, autoritarismo, sono tutte balle su balle, che i giornalisti sia a livello di politica estera, sia a livello, magari anche uno lo può traslare a livello sportivo, non hanno nessun valore, perché ognuno di noi oggi come oggi fa i propri interessi, io faccio gli interessi del mio ragionamento, del mio canale, di chi mi segue, perché io dico sempre la verità in faccia sputando il rospo completamente, senza venire qua a fare il perbenista, a dire quello che la gente vuole sentire dire, perché magari oggi abbiamo vinto contro l'Empoli, una grandissima squadra di Serie A senza offendere l'Empoli, che però è nelle retrovie e rischia praticamente di dover lottare per non andare in Serie B, per cui oggi siccome abbiamo vinto, ah no, Pioli sì, è un bravo allenatore, no, bisogna dare la possibilità a Pioli, Pioli out tutta la vita, te ne devi andare facendo le camicie, la giacca, la tuta, tutto il resto, chiuso in valigia insieme a Bonera e tutto il resto. Bene, facciamo una breve analisi di questa partita contro l'Empoli, allora una partita patetica, una partita noiosa, una partita che mi ha fatto addormentare, allora un Milan che praticamente sembra che sia risparmiato prima del ritorno di Slavia a Praga, a Praga in Repubblica cieca, può essere. Piccolo particolare, un Empoli talmente modesto che non siamo riusciti a chiudere la partita con un 2 e un 3 a 0, invece con un 1 a 0, con il rischio di prendere un gol sul finale di colpo di testa di Destro, Destro è stato praticamente un addormentato totale che non ci ha puniti per l'1 a 1. Questa è la verità, questo è il riassunto veritiero di questa partita. Altri riassunti andatevele a vedere in altri canali che raccontano palle, che dicono solo palle, e no, fanno la discussione, no, perché noi siamo qua di qua di su, non c'è nessuna discussione da fare, è stata una partita patetica, noiosa e bislacca, punto a capo. Abbiamo fatto solo il compitino contro squadre più attrezzate di noi, prendiamo solo mazzate, ve lo firmo. Vi preparo già per il derby di ritorno, vi preparo già per altre partite, perché questa è la verità ragazzi, questa è la verità, siamo troppo scarsi nei confronti di squadre più attrezzate con allenatori più veri del nostro. E adesso veniamo, per cui insomma io sono contento solo per una cosa, per la classifica, perché io come ho sempre detto dobbiamo blindare il posto Champions League in Serie A e basta. Io questa è la cosa che l'ho sempre detta, è quello che desideriamo tutti noi veri milanisti, noi veri milanisti che conosciamo di calcio, non che veniamo a scrivere come lo scorso video che ho parlato di Ebrahimovic, che mi ha dato fastidio quello che ha dichiarato, che due sfigati mi sono... Ah, voi due sfigati li ho bannati perché siete due sfigati. Sì è vero, sì lo ammetto, la libertà di parola di commento qua sotto per cazzate non è ammessa, perché quando uno viene a scrivere una certa cosa è quasi come un messaggio in diretto per sbeffeggiare me e altri noi tifosi veri che conosciamo veramente di calcio, che abbiamo capito che Pioli deve sgommare perché noi abbiamo bisogno di fare il salto di qualità in avanti e due sfigati, quando ho fatto il video di Ebrahimovic, il penultimo, venerdì mi vengono a scrivere io desidero che Pioli venga riconfermato perché sta facendo un grandissimo lavoro, sfigato, tu non sei neanche un milanista, sarai un interista, un juventino, un romanista, da questo canale te ne devi andare e quando scrivi una roba del genere nei commenti sotto se non te ne vai ti banno io, perché io le persone stupide, le persone ignoranti non le ho mai sopportate nella mia vita e per amor di Dio ho riso e scherzato anche con persone ignoranti stupide, persone che non avevano un grado di cultura diciamo elevato ma un grado normale di cultura, ma che comunque le persone anche se non hanno un grado di cultura ma sanno analizzare le cose della vita possono essere anche persone intelligenti, ma io parlo dello stupido del stupido del stupido, cioè uno che neanche davanti all'evidenza dei fatti capisce che Pioli è un mediocre, questa è la verità, per cui se tu mi vieni a scrivere un messaggio del genere sotto un mio video pensando di essere molto intelligente, di seguire l'onda che va perché vinciamo una partita contro una squadra scarsa come l'Empoli e di venire qui indirettamente anche a sbeffeggiare me, te ne vai a fanculo, io ti banno per tutta la vita e te ne vai fuori da dove vieni, per cui vattene presso altri canali che dicono ah Pioli è un grande renattore, vai da Carlo Pelegati, vai da dove cacchio vuoi, a me non me ne frega niente e nulla, è assolutamente nulla, bene, per cui l'analisi della partita è finita qua, non c'è niente da commentare, i nostri giocatori tutti sufficienti, hanno fatto il minimo indispensabile, uno che faccio un applauso è Teo Hernandez, perché Teo Hernandez ha fatto un gran lavoro come al solito, quando Teo è in forma il Milan va, questo bisogna dirlo, per il resto dei subentrati anche in corso a partita nel secondo tempo cosa devo dire Giroud non ha combinato niente, Ciocquezza non ha combinato niente, Musano non ha combinato niente, cosa devo dire, Calulu non ha combinato, che devo dire, anzi si è aperto un varco in difesa, scusate stavamo anche rischiando, no perché ho fatto un pranzo dominicale che era Nubabà, buonissimo, Nubabà, come gli italiani vengono visti all'estero, io non faccio mai questi gesti, c'è l'usanza al meridione in altre parti d'Italia di fare i gesti, ma ho anche al nord, comunque questo bisogno, io i gesti non li faccio, gli italiani vengono visti all'estero in questo modo, pizza, spaghetti, poi cos'è che, ah c'era una volta il mandolino, mafia e queste cose, ma va a quel paese, ma anche agli americani che mi vedono e tutto il re, ma smettetela, l'Italia non è le sue altre storie, mandolino, pizza e tutto il re, ma andate a quel paese, ma dai, va bene che siamo un paese pieno di burocrazia, però dai, non siamo scemate, siamo altro, siamo ben altro, e niente ragazzi, questa è l'analisi della partita, che analisi c'è da fare, io stavo quasi dormendo sul divano, già mezzo collassato da un pranzo domenicale favoloso, cosa devo starvi a dire qui, non c'è niente da raccontare, non c'è stato nessun evento eclatante, niente, 1-0, c'è andata bene che il VAR ci ha dato il gol, perché se non ce lo dava era 0-0, eravamo praticamente distrutti, questa è la verità ragazzi, veniamo sulle parole di Scaroni che lo trovo abbastanza gravi, anche se come al solito, lo so benissimo, io e voi, possono essere parole di circostanza, ma siccome ci sono già due prove che stanno iniziando a fare mezzo indizio, allora fateci caso, dopo che Cardinale a Londra con i brevici all'evento del Financial Times per il business nel mondo dello sport, praticamente Cardinale ha dato un'ammazzata incredibile a Pioli, a tutto il suo staff, ad alcuni giocatori che devono essere mandati via, viene rifatto tutto l'inventario, cioè dopo le parole di Cardinale Ibraimo ci dice tutto il contrario, siamo soddisfatti del lavoro di Pioli, lo giudichiamo per il lavoro ottimo che sta facendo, parole di circostanza, ok va bene. Adesso però c'è un altro indizio, Scaroni che dice Tormentone Pioli, questo è il solito Tormentone della serie, lui a Scaroni, al presidente Scaroni, quello che diciamo noi a lui non ne frega proprio niente, in più ci piazza dentro che anche il supif sono tutte balle su balle, per cui sapete già inizio un po' a preoccuparmi da accendere il campanello, perché due prove, due campane iniziano a fare mezzo indizio, Cardinale poi non è andato nell'Arabia Saudita, è rimasto dove cavolo sta e per cui è andato Ibraimoci, vero che lui ha le orecchie, la bocca, gli occhi di Cardinale, però attenzione poi oggi viene fuori la notizia che Ibraimoci vuole come direttore sportivo l'ex direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy, vabbè ci beccheremo questo qua, che non so neanche chi cacchio è questo qua, questo qua non ha nessuna esperienza con la Serie A, nessuna esperienza col calcio europeo, questo se ne è stato nella MLS che è un altro mondo rispetto al calcio europeo, che conta, perché quello che conta è il calcio europeo, poi c'è tutto il resto, vabbè c'è anche il calcio sudamericano che è ottimo, però ragazzi il calcio che conta è un calcio difficilissimo da organizzare quello europeo, questo qua è della MLS che cacchio vuole, ah no sono amici di Cardinale e certe robe, sì dai ho già capito, Cardinale, praticamente Cardinale dice Ibraimoci, guarda che devi fare così, devi fare così Ibra, hai capito? Sì sì sì, sì sì, sì sì, Presidente, sì. Io sto già capendo questo, non sono pessimista, sto dicendo solo la sacrosanta verità come ho sempre detto in tutti i miei video, il giorno che voi volete, che io vi dico le cazzate che voi volete che io dica, ve le dico, il giorno dopo però ho chiuso il canale, anzi facciamo una cosa, non le dico neanche, chiudo direttamente il canale, perché nel mondo dell'ipocrisia io non ci vivo, se volete viverci voi fate pure, a me non frega niente, fate quello che cacchio volete. Per cui Ibraimo ci ha detto signor sì al al presidente, al padrone del Milan, Cardinale, sì vabbè ci becchiamo questo dell'MLS, americano, no lui conosce, lui non è americano, sarà l'origine croatica, ne so io, questo qua ha giocato come calciatore in Europa, in varie squadre europee, da quel punto di vista conosce il calcio europeo però come direttore, vabbè diamogli fiducia, che ne so, comunque Ibraimoci in questo senso, deve fare quello che dice il capo, se capito, perché questo arriva dall'MLS, avete capito il collegamento, perché arriva dall'MLS, che sia chiaro, non è che me lo sto sognando, però ragazzi io per l'ennesima volta sono infastidito e mi dispiace fare questi video, perché io vorrei fare video più rilassati e tranquilli, che forse sembrano anche noiosi, ma sarebbe anche bello fare video noiosi, però Scaroni con queste parole che ci ha detto vuole abbassare gli animi, vuole abbassare i toni di questi video baldanzosi che gli youtuber fanno su YouTube, dei giornalisti del Sole 24 Ore, di Calcio e Finanza, di tutte queste robe qua, che dicono Piffa arriva, no Pioli se ne deve andare, arriva Conte, praticamente lui vuole abbassare i toni Scaroni, Brevi ci vuole abbassare i toni e poi molto probabilmente non si fa una mazza, perché quando i toni vengono abbassati tanto e costantemente, fidatevi che c'è un punto, un fondamento di verità, per cui attendiamo, se sarà così come ho detto nello scorso video su Ibra, le parole Ibra, su Pioli, di vero discorso, ragazzi io faccio una battaglia infinita, cioè proprio perché mi sono rotto le palle, cioè il nostro Milan viene maltrattato da tutti quelli che sono venuti fino adesso ragazzi, cioè l'unico che ha fatto un gran lavoro di bisogno della verità è Elliot a livello di conti, di finanza, ma il cinese prima ha sperperato e basta, Elliot ha tenuto il freno a mano, però comunque alla fine siamo arrivati a vincere uno sfudetto e ha messo a posto i conti, però non c'è una, non vedo una luggimiranza di investimenti come sta facendo il cinese Zhang che si indebita e indebita, sempre più, allora Zhang rifinanzia il debito del debito, però facendo così alza il fatturato, questo va detto, alza il monte in gaggi, è un po' più luggimirante, Antonio Conte gli ha aperto un ciclo, noi non vogliamo pagare un allenatore che costa tanto, perché no, io dico che il Milan lo può pagare, qui è solo una questione di lungimiranza che deve avere la proprietà, la proprietà forse più che lungimiranza vuol tenere il braccio corto, sta attento solo ai conti, loro interessano solo i conti, il problema è che anche gli altri che forse vogliono investire nel Milan, io sto parlando adesso degli shake, si rompono anche un po' le palle e a un certo punto possono anche dire, beh sai che c'è di nuovo, visto che tu sei pesante, mi rompi veramente le scatole, riferito al Red Bull, al Cardinale, io il Milan non te lo prendo più, perché mi hai rotto veramente le balle, stop, si può perdere anche un futuro socio, proprio anche per questo motivo, perché è sfibrato, sfiancato dal fatto che uno ti continua a dire no, 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 perché no, perché no, perché no, perché io il Milan lo tengo, vita natura durata. Io l'ho sempre detto a Cardinale nel mio video, e voi lo sapete che io sono un po' sentenziatore quando parlo succede, Cardinale stai molto attento, perché la tua politica ti farà scappare dal Milan con la coda tra le gambe e soprattutto rimpiangerai di essere proprietario del Milan, stai attento, occhio, se gli scheicchi vogliono entrare, falli entrare e soprattutto manda via Pioli per aprire un ciclo vincente con Antonio Conte, un vero allenatore, investi veramente nel Milan, perché a te chi t'ha bagnato il naso fino ad oggi, a te ed Elliot insieme, Cardinale, questo va detto, si chiama Inter, si chiama Zang e si chiama Beppe Marotta, ragazzi, cioè, ammettiamo questa cosa qua. Cardinale, insieme al tuo Elliot, i finanziatori, tutto, qui c'è il naso bagnato, ci hanno fregati. Questa cosa bisogna dirla, ragazzi, bisogna dirla, perché non dirla vuol dire essere dei conoscitori di calcio bislacchi, come quelli che vengono a scrivere sotto il mio canale, due di numero che vengono a scrivere. Io spero che Pioli sia riconfermato, ha fatto un gran lavoro. Oggi poi abbiamo vinto contro un grande Empoli, Real Madrid Empoli, anche loro, anche loro questi qua. Lasciamo perdere. Vi mando un abbraccio, forza Milan sempre, comunque ovunque, ciao.